Da qui per quattro volte spingeremo il carrello indietro solo dalle braccia, fuori aria. E torna, questo esercizio è kneeling addominal, fuori aria, vai, spingo dalle braccia. Ogni volta che spingo le braccia cerco di attivare l'addome mentre l'aria fuoriesce. Tre. Tieni sempre qualche secondo e torna. Vai, l'ultimo, cerchiamo di farlo un po' più grande e torna. Adesso invece le braccia restano ferme, quindi la parte superiore, il cingolo scapolare è stabile. Spingiamo sempre le braccia verso il basso e da qui invece muoviamo soltanto le gambe. Quindi portiamo indietro il carrello dalle gambe, senza muovere il bacino e attivando sempre l'addome. Ancora, tira dentro la pancia e spossa il carrello dalle gambe. Ancora due. E l'ultimo. Bene, adesso combiniamo i due movimenti. Quindi sposteremo il carrello prima dalle braccia, poi dalle gambe, ritorno dalle gambe e ritorno dalle braccia. Buon 종etke. Qua, la realtà. Qua. 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 La realtà.